Onorevole Fontana, commentiamo la visita di Obama in Italia, abbiamo visto, ha detto apprezzato il lavoro fatto sinora da Renzi, cosa si può dire? Si può dire che l'imperatore è venuto a vedere se i suoi vassali si stanno comportando bene e penso che ha notato che sicuramente da questo governo italiano avrà il massimo appoggio. Purtroppo però è evidente che ormai il sistema americano, che poi è quello che porta avanti anche l'Unione Europea, sta crollando continuamente, lo vediamo in tutte le varie crisi, compresa quella ucraina, quindi insomma ritengo che tra l'altro Obama abbia dei grossi problemi anche interni, farebbe meglio probabilmente a guardare a casa sua perché è evidente che il vento del cambiamento passerà anche da lì. Ci sono state delle indicazioni anche dal punto di vista delle spese militari, anche degli armamenti, insomma è stato dato una sorta di, non dico avvertimento, ma in ogni caso di consiglio. Si beh è chiaro che da questo punto di vista gli Stati Uniti non permetteranno grande possibilità di azione al governo italiano, ma il problema non è tanto gli avvertimenti che danno gli Stati Uniti, il problema è proprio il fatto che Renzi si adegui a qualsiasi cosa gli venga detto e da Bruxelles e da Washington. Purtroppo si nota ormai sempre di più come non siamo assolutamente indipendenti e come siamo purtroppo asserviti a un certo sistema di potere che è quello che poi ha attuato e ha iniziato la crisi economica, che non dimentichiamoci che è partita proprio dagli Stati Uniti, ed è quello che ci ha fatto pagare per salvare le banche e la grande finanza. Quindi il popolo deve decidere se stare dalla parte di chi ci ha messo in questa crisi e chi ci sta rovinando oppure cambiare. Io penso che cambieranno. Un primo segnale c'è stato con i risultati delle amministrative francesi? Sì, un risultato importante che ha visto il Front Nazionale come già sapevamo da tempo essere uno fra i primi partiti, probabilmente alle elezioni europee diventerà il primo partito di Francia. La fortuna ma anche l'abilità dell'azione svolta in Parlamento europeo è stata quella di stringere un'alleanza forte fra i gruppi identitari, fra i partiti identitari, tra cui appunto il Front Nazionale, con il quale condivideremo le battaglie in Europa nella prossima legislatura. E il delinearsi di questa alleanza potrebbe già proprio definirsi dal prossimo mese, ad aprile? Sì, certamente sì. Beh, diciamo che si è già definita ormai da diversi mesi a questa parte. Stiamo lavorando assieme per un programma comune che ovviamente, oltre a prevedere l'uscita dall'euro, prevede anche varie normative nuove, come quella della lotta all'immigrazione clandestina, come quella della difesa dei nostri prodotti locali, come quella della difesa della concorrenza sleale, in particolar modo dall'Asia e dalla Cina, e come quello anche dello stop all'allargamento dell'Unione europea. Come sappiamo l'Unione europea ha deciso di dare altri 7 miliardi di euro alla Turchia nei prossimi 7 anni, dopo i 5 che ha già dato negli ultimi 7 anni. Noi ovviamente siamo contrari e a far entrare la Turchia nell'Unione europea, ma soprattutto a fare un allargamento che come abbiamo visto quando gli ultimi stati sono entrati ha creato gravi problemi sociali ai nostri territori. Lei proprio l'altro giorno ha partecipato alla creazione del Comitato per il Veneto indipendente, c'è un altro però dato da commentare a riguardo, che riguarda la Catalonia. Sì, in Catalonia purtroppo accade quello che probabilmente potrebbe accadere anche in Italia, nel senso che la Corte Costituzionale Spagnola ha deciso che il referendum non sa da fare. È evidente che gli stati centralisti tentano di difendere il loro ormai effimero potere, ma i popoli europei ormai vogliono liberarsi, vogliono liberarsi e da questo cappio che c'è da Bruxelles e anche e soprattutto dal cappio degli stati nazionali che ormai drenano solo risorse senza dare servizi in cambio. Senta, come si può invertire questa tendenza, dando più potere al Parlamento europeo? Beh, diciamo che il Parlamento europeo sarebbe l'unico organismo democraticamente eletto e fino a questo momento purtroppo grandi poteri non ne hanno. non ha il potere di legiferare, il che è completamente assurdo. Questo fa capire come in Europa la democrazia non sia tenuta in considerazione, anzi purtroppo danno tutto ai burocrati o alla Commissione europea che non è eletta da nessuno. È evidente che potrebbe essere una soluzione anche quella di dare più potere al Parlamento, ma il problema è che bisogna dare più potere ai popoli europei per fare in modo che l'Europa del futuro sia un'Europa confederale dove i popoli stringono delle alleanze fra di loro appunto per difendere e per difendersi. Senta, domani, domenica e poi anche lunedì nei vari comuni sarà possibile firmare 5 requisiti referendari della Lega Norda in Veneto. Si è già fatto un sondaggio tra l'umore della popolazione riguardo questi argomenti? Sono argomenti molto sentiti, anche di buon senso. L'abolizione delle prefetture potrebbe risparmiare 500 milioni di euro, il regolare la prostituzione e abolire la legge Merlina è sicuramente una cosa dal punto di vista sociale importante perché ripulirebbe le strade dagli scempi che purtroppo ci sono tutte le sere e anche di giorno ormai, ma soprattutto potrebbe essere un introito da parte dello Stato di 4 miliardi di euro e poi è una cosa che fanno in tanti altri paesi europei. Poi c'è la questione della legge Mancino che è quella che vuole punire fondamentalmente i reati d'opinione ed è purtroppo una deriva pericolosa quella che si è assunta con questa legge perché è giusto che ogni cittadino abbia la possibilità di esprimarsi come meglio crede.